Buon pomeriggio e benvenuti alla proiezione This Is Not a Burial, It's a Resurrection e con me la produttrice Kate Pansen Howe e il regista Lemohang, Jeremiah Moseses. Prima di lasciare la parola a questa incredibile coppia che ha lavorato con noi nell'anno passato due parole su che cos'è la Biennale College Cinema, un progetto nato sette anni fa ideato proprio qui dalla Biennale di Venezia per sviluppare e produrre opere prime e seconde da tutto il mondo. Si tratta di un progetto unico che ha visto fino ad oggi la produzione di 22 film direttamente finanziati dalla Biennale e di altri 16 che si sono poi prodotti, quindi in sette anni possiamo parlare di 38 film da tutte le parti del mondo. Questa è la prima proiezione dei tre film che presentiamo quest'anno e verranno presentati gli altri domani e dopodomani, sempre la proiezione ufficiale, sempre a quest'ora in questa sala. C'è una cosa particolare nella Biennale College, hai poco tempo per fare il film e hai anche pochi soldi ma tanta creatività e tanta buona volontà. Quindi in dieci mesi, dieci mesi fa loro erano qua con noi soltanto con un'idea di film e adesso voi vedrete il film realizzato. So, I switch to English before I let the producer and the director speak, just to say a few words on the Biennale College Cinema. Biennale College Cinema was ideated seven years ago and has produced since 22 films directly financed with 150 euros each by the Biennale and another 16 have been produced independently but have been developed through the program. It is a training program where we sort of work together for a year, less than a year, and we develop 12 projects but three are then selected to be actually produced and this that you're seeing today is the first of three. Tomorrow and the day after tomorrow, in this room, you will be able to see the other two. I think I've finished and let's hear your voice Kate. Thank you so much everybody for being here. This is such a surreal experience for us. This is a project that's very close to our hearts and I'd like to thank the president of La Biennale Venezia as well as the Biennale College team, especially Savina, Jane, Michelle, Valentina. We love you guys so much. We couldn't have done this without you. I'd like to thank the tremendous cast for their amazing dedication and their beautiful performances, in particular, Mary Twala Mllongo, who's 80 years old and somehow agreed to come and live with us in the mountains for a month and gave the performance of a lifetime. I'd like to thank our crew. It was a tiny group of 15 people that really made something extraordinary with us and it was a very intense but incredibly rewarding journey. And just thank you to everyone who gave any kind of contribution to the film in particular, all our tutors, and specifically Alec Van Bargen. Pardon me, Alec Van Bargen and Mary Stephen, who are with us every step of the way. Lastly, thank you, Jerry. This was a transcendent experience and I love you so much and you're a wonderful talent and we made something truly beautiful and I'm exceedingly proud to be here with you today. Thank you. Thank you very much, guys. I'm very grateful that you're all here. Bella ciao. Grazie mille. Hanno ringraziato la Biennale College, la crew, piccola ma incredibile, naturalmente gli attori e anche chiaramente l'attrice principale, l'ottantenne, che è stata con loro in questo incredibile viaggio e poi chiaramente si sono fatti i complimenti. Grazie e buona proiezione. Grazie.